Da domani inizia la campagna di vaccinazioni anti-influenzale e anti-covid dell'Asra di Teramo. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha allestito un centro vaccinale dedicato in Contrada Casalena a Teramo e organizzato sedute nelle sedi di Silvi, Rosseto, Giulianova, Asri, Tortoreto e Nereto. Inoltre ci si potrà immunizzare contro l'influenza e il covid nelle unità complesse di cure primarie oltre che negli ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La vaccinazione anti-influenzale, ricorda il direttore generale dell'Asra Maurizio Di Giosia, è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungo degenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario. ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi 6 anni. È possibile effettuare anche la vaccinazione anti-covid-19 dal rispetto delle indicazioni ministeriali e raccomandata annualmente per tutte le persone di età pari o superiore a 60 anni, per gli ospiti delle strutture per lungo degenti, per le donne in gravidanza, per gli operatori sanitari, nonché per le persone da 6 mesi a 59 anni con elevata fragilità.